Questa sera alle ore 21 su TFN, nuovo appuntamento con Pedi Pedi. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Ci sei? Roberto, ma che sorpresa! Non te l'aspettavi, non te l'aspettavi! Per niente, guarda io giro già microfonata a casa a casa. Ragazzi, guardate che coincidenza, Emanuela già ci aspettava. Allora, intanto possiamo entrare? Prego, non fate entrare i gatti. Non facciamo entrare i gatti, noi entriamo. Allora, stiamo entrando a casa di Emanuela Pulvirelli. Benvenuti! Grazie, allora noi ci sediamo qua. Prego! Ecco, adesso io piazzo, vedi come siamo organizzati, io piazzo questa cameretta così abbiamo una visione totale, mentre Gianluca si occuperà, ecco qua, benissimo, di fare le altre riprese. È inquadrata, Zoe, questa è quella che sta in casa. È bellissima, come si chiama? È speciale, Zoe. Zoe, non graffia, vero? Un pochino, provaci. Allora, meglio di no. No, meglio di no. Vai diventita lì a storto? No, infatti, come fa a fare, tale? Allora, Emanuela, mamma mia, io sono contento perché, vabbè, poi scopriremo perché.